Gli ultimi incidenti anche gravi sulle piste da sci della montagna aquilana ripropongono il tema della sicurezza. L'arma dei carabinieri è presente nelle stazioni del comprensorio proprio per far sì che tutto sia fatto nel rispetto delle regole della sicurezza propria e altrui. Sulle piste i carabinieri sciatori assicurano il servizio di polizia, mentre i carabinieri rucciatori sono impiegati per interventi in ambiente montano, tutto personale altamente specializzato. In provincia il servizio di pattugliamento e soccorso sulle piste da sci è garantito dal personale del comando provinciale e da quello dei carabinieri forestali del reparto parco. I numeri parlano chiaro. Dall'avvio della stagione sono stati registrati numerosi incidenti con ricorso a curi ospedaliere, con un incremento di infortuni rispetto alle precedenti stagioni. A meno di due mesi dall'apertura si registrano infatti già 348 interventi di soccorso, 20 per collisioni tra sciatori. Nella passata stagione, con la possibilità però di accedere alle piste solo per i tesserati, gli incidenti erano stati 345, ma nell'intero periodo da dicembre a marzo. Un tema, quello della sicurezza, al quale il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Mirante, tiene molto. È un servizio che si aggiunge all'aggia intensa e preziosa opera che l'arma porta avanti sul territorio. Devo dire che con l'anno nuovo gli standard, i livelli e le norme di sicurezza sono anche cambiati, sono fatte più importanti e quindi il nostro lavoro è ancora più fitto e impegnativo. Noi abbiamo in tutta la provincia dell'Aquila più di 200 chilometri di piste da sci e più di 70 impianti di risalita, a cui poi si aggiungono ovviamente tutte le varie strutture e piste di escursionismo e di sci d'alpino. Di conseguenza il nostro lavoro attraverso i carabinieri sciatori e i carabinieri rocciatori, che sono personale qualificato e specializzato al nostro centro di addestramento di Selva di Val Gardena, è quotidiano. I carabinieri sono impiegati nelle piste operativamente, ma anche fuori, per promuovere una cultura volta alla sicurezza in montagna e al rispetto delle regole. Dal 2022 c'è l'obbligo del casco per i minori di 18 anni, c'è l'obbligo dell'assicurazione, c'è soprattutto l'obbligo di qualora si fa sci d'alpinismo, quindi si va fuori anche nel fuori pista, di portare con sé la strumentazione e poi essere ritrovati. E soprattutto c'è il divieto di assumere sostanze alcoliche e stupefacenti e poi mettersi a sciare per quelle che sono le piste. E noi proprio in questo campo abbiamo avviato ovviamente dei controlli supplementari che vanno ad aggiungersi a tutte quelle norme che ormai richiamiamo periodicamente che sono finalizzate a contrastare la pandemia. Grazie a tutti.